Quasi 10.000, Luigi, quasi 10.000 ucraini, in gran parte ha detto il capo dipartimento della protezione civile Curcio, donne e bambini, dunque persone fragili, ma il flusso sta aumentando nella sua intensità, solamente nella giornata di ieri ci sono stati 2.500 arrivi. Si stanno adesso cercando, attraverso la collaborazione stretta con le regioni, i presidenti di regione sono stati nominati commissari speciali per questa emergenza, i luoghi dove poterli ospitare, molti si stanno appoggiando da parenti che hanno già in Italia, ma naturalmente la protezione civile si prepara per quando arriverà un flusso ancora maggiore e questo porta anche un'esigenza sanitaria, perché naturalmente con l'epoca, con la pandemia bisogna fare conti perché molti di queste persone non sono vaccinate, ci sarà una serie di strutture dedicate al monitoraggio con i tamponi, con le quarantene e anche in questo senso è stato chiarito che l'utilizzo eventuale dell'esercito servirà proprio sul fronte sanitario più che sul controllo, diciamo così, di frontiera a livello di polizia. Questi sono i cardini di un piano che è in evoluzione, ha detto Curcio, che andrà modulato poi sui volumi delle persone, degli ucraini rifugiati dalla guerra che arriveranno in Italia e anche questo sarà deciso in sede europea perché, ha detto il capo della protezione civile, c'è un embrione di collaborazione a livello europeo, una sorta di protezione civile europea, che dovrà decidere come ripartire i profughi che arriveranno in Europa, in questo momento se ne contano già più di un milione, ha detto che l'ultimo report di Frontex contava un milione e duecentomila persone che si sono mosse dall'Ucraina ai bordi dell'Europa e che stanno già penetrando nel nostro continente, che adesso dovranno essere accuratamente seguite. In Italia in questo momento, ha assicurato Curcio, il flusso è gestibile. Andiamo a ascoltare le sue parole. Noi abbiamo quasi 10.000 cittadini ucraini che sono arrivati, un po' più di 9.000, quindi insomma, la metà sono donne, un po' meno della metà sono bambini, il resto sono uomini, quindi sono categorie ovviamente, più che altro sono persone ovviamente vulnerabili. La maggior parte delle persone provengono tramite la frontiera terrestre, italo-slovena. Certamente sta aumentando il numero di persone che quotidianamente arriva, ma con flussi che risultano al momento gestibili. Il prefetto che collabora con la protezione civile ha detto che l'Italia è pronta a gestire questa situazione. Bisognerà capire che cosa succederà quando aumenteranno, come è previsione da parte della protezione civile, i numeri in arrivo nel nostro paese, ma di sicuro l'Italia non si tirerà indietro, questo l'ha sottolineato il capo della protezione civile. Ripetiamo i numeri, circa 10.000 sono gli ucraini arrivati in Italia fino a questo momento, ma il numero è destinato a salire. Per il momento è tutto, Luigi e te.